Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video vi presenterò gli esercizi da eseguire dopo un intervento di protesi totale o parziale del ginocchio, per cui vi invito a visionare il video relativo sul mio canale YouTube tramite il link che troverete alla fine di questo filmato. L'ordine degli esercizi è quello che consigliamo, ma nulla vi vieta di cambiarlo. Se uno o più di questi esercizi vi causassero troppo dolore non preoccupatevi, saltatelo e provatelo dopo 12 ore, magari anche il giorno dopo. Tenete presente che dopo l'intervento sarà bene iniziare subito a mettere una borsa del ghiaccio, evitando nel contatto diretto con la pelle usando ad esempio un asciugamano. Lo scopo del ghiaccio è duplice. Da un lato riduce l'eventuale dolore e dall'altro riduce il gonfiore post-operatorio. Ricordate di applicare la borsa del ghiaccio per 5-10 minuti molte volte al giorno, fin tanto che il ginocchio operato vi sembrerà gonfio o tenderà ancora a farvi male. Ricordate che eseguire questi esercizi tutti i giorni vi aiuterà a recuperare la funzione del ginocchio. Tuttavia è fondamentale farsi aiutare da un fisioterapista che vi dirà anche quando poter abbandonare le stampelle, ovviamente in modo graduale. Per eseguire questo esercizio dovete semplicemente rimanere sdraiati sul letto o sul divano con un asciugamano rotolato sotto la caviglia. Effettuate dei lenti movimenti di flessione ed estensione della caviglia portando in su e in giù la punta del piede con entrambi gli arti inferiori. Eseguite 30 ripetizioni tre volte al giorno. Rimanete in posizione sdraiata, posizionate un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio e iniziate a contrarre il quadricipite spingendo con il ginocchio contro l'asciugamano. In altre parole cercate di spingere il ginocchio verso il basso fino a raggiungere la completa estensione. Eseguite questo esercizio per 20 volte tre volte al giorno. Sdraiati sul letto sul divano cercate di piegare il ginocchio facendo scorrere lentamente il tallone. Tornate quindi alla posizione di partenza estendendo completamente il ginocchio. Eseguite l'esercizio per 10 volte tre volte al giorno. Rimanete distesi mettendo un cuscino o un grande asciugamano arrotolato sotto il ginocchio. Raddrizzate il ginocchio operato e tornate alla posizione iniziale. Incrementate la difficoltà dell'esercizio mantenendo la posizione con la gamba tesa per 5 secondi. Eseguite 10 ripetizioni due volte al giorno. In posizione seduta o sdraiata cercate di sollevare tutta la gamba operata tenendo il piede sollevato per 30 centimetri dal piano di appoggio. Ripetete l'esercizio per almeno 10 volte ed eseguitelo tre volte al giorno. Per aumentarne la difficoltà ma anche l'efficacia se ci riuscite cercate di tenere la posizione sollevata per 5 secondi prima di abbassarlo. Rimanete sdraiati e iniziate a piegare la gamba operata facendo scivolare il tallone. Ora sollevate il ginocchio con entrambe le mani e cercate di piegare il più possibile portando il ginocchio verso le natiche. Raggiungete la flessione massima consentita in modo da percepire una tensione a livello anteriore del ginocchio. Ripetete per 10 volte due volte al giorno. Per questo esercizio mettetevi seduti sul bordo di un letto oppure su una sedia stabile un po' alta meglio ancora se con dei braccioli. Portate il piede della gamba sana in questo caso la destra davanti alla caviglia della gamba operata. Il piede del lato sano fa piegare il ginocchio con dei movimenti di spinta posteriore. eseguite 10 ripetizioni due volte al giorno. Mettetevi seduti su una sedia possibilmente con braccioli appoggiando il piede della gamba operata ed estendendo il ginocchio come mostrato ora usando entrambe le mani per spingere verso il basso. Cercate di mantenere il piede a 90 gradi durante l'esecuzione di tutto il movimento. Incrementate la resistenza cercando di tenere la posizione per 5 secondi. Eseguite 10 ripetizioni per due volte al giorno. Adesso mettetevi in piedi appoggiati su di una superficie stabile come una sedia o un mobile. tenete i piedi paralleli tra loro e divaricati alla stessa altezza delle spalle. Iniziate a piegare leggermente le gambe senza che le ginocchia vadano oltre la punta dei piedi. Incrementate la difficoltà dell'esercizio tenendo la posizione per 5 secondi. Eseguite 10 ripetizioni almeno due volte al giorno. Tenete la posizione dell'esercizio precedente mantenendo una distanza tra i piedi di circa 20 centimetri. Portate il peso sulle punte e quindi staccate i talloni dal suolo. Tornate lentamente alla posizione di partenza. Cercate di incrementare la difficoltà dell'esercizio mantenendo la posizione in punta dei piedi per circa 5 secondi. Eseguite 10 ripetizioni due volte al giorno. Per questo esercizio di stretching con le scarpe da ginnastica salite sul primo gradino della scala di casa, appoggiatevi sul corrimano e cercate di scendere col tallone in giù dolcemente tenendo la posizione per 5 secondi. Salite quindi in alto, tenete la posizione per 2 secondi e ripetete l'esercizio per 15 volte 3 volte al giorno. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.